Il Conservatorio Casella dell'Aquila dice no al ritorno della struttura nell'ex polo di Colle Maggio, andando in direzione opposta rispetto a quanto diffuso sulla stampa nelle ore scorse con la pubblicazione della notizia del recupero dell'ex monastero di Santa Maria di Colle Maggio prima del sisma a sede appunto del Conservatorio dell'Aquila sul sito del Ministero delle Infrastrutture. Il direttore Gian Domenico Piermarini ribadisce ciò che sostiene ormai da anni. Occorre individuare una struttura degna delle dimensioni che ha acquisito oggi il Conservatorio cresciuto a tal punto da essere diventato una piccola azienda culturale di circa un migliaio di persone tra studenti, docenti e personale non docente. Una strada intrapresa insieme alle altre istituzioni con incontri e tavoli ai quali hanno preso parte anche di recente i rappresentanti del Comune, della Provincia e del Proveditorato stazione appaltante dell'Opera di Diqualificazione. Nella sede di Colle Maggio il Conservatorio è stato solo due anni ma questi due anni sono bastati per renderci conto di quanto fosse inadeguato dal punto di vista funzionale sale estremamente risonanti, piccolissime, inutilizzabili, di quanto fosse carente come spazi e di quanto come alcuni spazi, seppure grossi, fossero completamente inutilizzabili e inadeguabili alle nostre esigenze. Produciamo un indotto piuttosto significativo perché tutti gli studenti non sono dell'Aquilano ma ci sono anche studenti che vengono da Territomo Arrimitrofi, Lazio, la Sabina. Abbiamo contatti internazionali quindi abbiamo sempre detto che abbiamo bisogno di una sede adeguata a questo. Direttore, dove si è bloccato il processo di comunicazione visto che voi l'avete ribedito anche al Proveditorato che quella sede non è idonea per il Conservatorio? Questo non lo so, bisogna chiederlo al Proveditorato. Noi l'abbiamo detto chiaramente, evidentemente sono andati avanti per la loro strada. Abbiamo assicurazioni che il Comune sta lavorando a una sede adeguata altrimenti sarebbe un dialogo tra sordi e questo credo che non sia perché il Comune ha sempre, ribadisco sempre, manifestato vicinanza perché sembra rendersi conto del significato del Conservatorio. Non fosse altro perché poi le realtà vicine, io ho scito Pescara, scito Teramo, gli enti locali sono molto vicini ai loro conservatori e garantiscono quel supporto che noi ci aspettiamo e c'è stato negli enti locali promesso. Quindi è un fulmine a ciel sereno una cosa di questo genere.